Vi è una qualità, tra virgolette, della gratitudine vera, che è quella di Dio. E a cui noi uomini siamo chiamati a, in un certo senso, a imitare, per quando umanamente è possibile e possiamo fare, fare del bene, donare la vita per gli altri, donare qualcosa di mio all'altro e non aspettarmi nulla. La vera gratitudine è donare senza aspettarsi nulla, è donare senza aspettarsi un ritorno. La vera gratitudine non è il Do Ut Des, cioè ti do qualcosa perché tu possa fare qualcosa per me. No, questo è commercio, questo è scambio, in alcuni casi anche corruzione. Un cuore corrotto è diverso da un cuore grato. Il cuore grato dona, ama e vuol bene senza aspettarsi nulla. E umanamente questo è duro. Ma sentite che cosa diceva una donna semplice, che ha fatto della sua vita un dono continuo, si è donata totalmente. Sicuramente era una mamma di famiglia, Natuzza Evolo, la serva di Dio Natuzza Evolo. Sentite che cosa scrive questa mistica calabrese. Dice, quando una persona fa un bene a un'altra persona, non può rimproverarsi il bene che ha fatto, ma deve dire, signore, ti ringrazio che mi hai dato la possibilità di fare il bene. Deve ringraziare, continua Natuzza Evolo, anche la persona che le ha permesso di fare il bene. È un bene per l'una e un bene per l'altro. Sempre si deve ringraziare Dio quando si incontra la possibilità di fare del bene. Quando faccio del bene, devo dire, grazie, signore, che mi hai fatto fare del bene. Non perché sono bravo, non perché sono migliore degli altri, non perché sono benefattore e devo far vedere che io sono bravo, no, ma perché io ogni giorno ricevo da Dio, immeritatamente, senza alcun mio merito. Questo è il cuore grato. Questo è un cuore che veramente, che effettivamente ha bisogno di dire grazie. È vero, noi molte volte vogliamo più sentire l'ingraziamento, ma noi siamo fatti. Quando soprattutto siamo amici di Gesù, siamo fatti per dire grazie a Dio. Ogni giorno è da Lui dire grazie poi anche agli altri. avere la possibilità, non solo la possibilità, ma la coscienza, la consapevolezza, la maturità di fede, la maturità umana, quando incontriamo il bene di poter ringraziare il Signore di averci fatto fare quel bene, quel piccolo o grande bene che siamo riusciti a fare. Vi aspetto domani, Parli Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti! Grazie a tutti!